Cardano ha la criptovaluta degli scienziati dal grande valore futuro. Assolutamente doveroso parlare di Cardano per tutto quello che comporta come potenzialità future e soprattutto anche per quello che è accaduto nell'ultima settimana dove il suo valore si è raddoppiato. Quindi l'obiettivo è fare una carrellata veloce di tutte le caratteristiche di Cardano, cos'è, come funziona, dove ha avuto origine, quali sono le prospettive future, anche vedere una possibile previsione in termini di prezzo, per quanto sia possibile. Quindi rimani qua e ci vediamo dopo la sera. E rieccoci ritornati, quindi un benvenuto, un caro benvenuto da parte mia Alberto Malini di Crypto Learners, benvenuto e benvenuta. Andiamo subito a vedere cos'è Cardano e perché è importante oggi parlare di Cardano. Allora, innanzitutto Cardano rappresenta la moneta numero 3 nel mercato globale delle criptovalute. Lo vediamo, qui è numero 4 e allora perché Alberto hai detto numero 3? Perché al numero 3 c'è uno stablecoin, quindi US Dollar Tether. Di conseguenza una reale criptovaluta, che è Cardano, è esattamente subito dopo i grandi big, cioè Bitcoin ed Ethereum. Vediamo qua cosa è accaduto appunto nell'ultima settimana. Ha fatto più che un raddoppio, oltre il 105%. Il prezzo attuale è al di sotto del dollaro, quindi 0,91 dollari americani e questi sono i volumi di scambio nell'ultima 24 ore e la capitalizzazione, che sono estremamente importanti. Non ovviamente a livello di Bitcoin ed Ethereum, ma comunque è al terzo posto come criptovaluta. Ok, andiamo a vedere la descrizione di Cardano. Quindi capiamo che cos'è. Faccio una piccola premessa. Tutto quello di cui si parla non è assolutamente da considerarsi consiglio finanziario, anzi semplicemente condivisione di idee, esperienza, esperienza appunto di Crypto Learners e dati recepiti sul web. Inoltre ti chiedo, qualora il video ti piaccia e lo trovi utile e interessante, schiacciaci un like, sottoscriviti, iscriviti al canale, clicca sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato e aggiornata di tutte le nuove uscite e contenuti che andiamo a creare e goditi quello di cui andiamo a parlare. Allora, Cardano, mi è piaciuta molto questa descrizione di Cointelegraph Italia. Cardano è la piattaforma che gestisce le operazioni della criptovaluta ADA. Tale piattaforma è suddivisa in più strati, offrendo al sistema abbastanza elasticità da poter essere mantenuto facilmente e aggiornato con semplici soft fork. Cardano utilizza un sistema Proof of Stake, riducendo i requisiti energetici e migliorando la scalabilità del network. Un'altra importante caratteristica di Cardano è la sua Recursive Internet Work Architecture, che permette l'esistenza di una sottorete all'interno della rete principale, facilitando in tal modo la sua crescita. Cardano, attenzione, mira a diventare internet della blockchain, rendendo possibile l'esistenza fianco a fianco di numerose criptovalute, senza l'intervento di intermediari che ne permettano lo scambio. Cardano permette inoltre agli utenti di allegare metà date e le transazioni, rendendo la rete ottimale per banche e governi. Quindi l'inserimento di smart contract, esattamente come Ethereum, ma molto più efficace. Perché? Qual è l'esigenza da cui parte Cardano? L'esigenza è questa, quella del famoso trilemma delle criptovalute, cioè avere sia scalabilità che sicurezza che decentralizzazione. Purtroppo, spesso e volentieri, all'aumento della sicurezza calano scalabilità e decentralizzazione. All'aumento dice decentralizzazione, calano gli altri due. Quindi diventa un equilibrio veramente sofisticato. Il Bitcoin è eccezionale per sicurezza, decentralizzazione, però in termini di scalabilità ha delle grandissime pecche. Ethereum pecca un po' dal punto di vista della decentralizzazione. In questo momento della scalabilità, vediamo grandi problemi con le fee, per questo che sta passando Ethereum 2.0 per aumentare scalabilità, però bisogna sempre lavorare bene sulla sicurezza. Non che abbia problemi assolutamente, è una blockchain altamente sicura, non ai livelli del Bitcoin, però il concetto è sempre questo, rimanere nel giusto equilibrio espandendo tutte queste tre forze. L'obiettivo di Cardano è proprio questo, sicurezza totale, scalabilità incredibile e decentralizzazione. Come fa ad arrivare a questo? Lo vediamo subito. Ma per capire l'importanza di un grande progetto come Cardano, voglio farti vedere qual è stata la visione e da dove viene chi ha avuto la visione di Cardano. Il fondatore e creatore o co-creatore è Charles Hoskinson assieme a Jeremy Wood, lo vediamo in un thread Twitter. Charles Hoskinson è un matematico americano nato nelle Hawaii, ha vissuto in Colorado da famiglia di medici e avrebbe dovuto fare il medico anche lui, ma nella realtà ha iniziato ad appassionarsi di cripto, quindi criptovalute. Intorno al 2011 ha iniziato a muovere i primi passi col mining, costruendosi un mining rig casalingo e dal 2013 è entrato full time, quindi con totale convinzione nel mondo delle criptovalute. Ha creato, questa è una cosa simpatica, proprio in quegli anni un corso su Udemy. Mi fa sorridere perché anche noi abbiamo creato un corso introduttivo al Bitcoin e al blockchain. Ebbene, grazie a questo corso ha ampliato enormemente il suo network e quindi ha iniziato a conoscere personaggi del calibro di Gamer Andy, Roger Veer, Andreas Antonopoulos e Eric Forsey. Grazie a tutto questo ampliamento di network è entrato in contatto con Vitalik Buterin, grazie a Anthony Di Iorio, anche lui cofondatore di Ethereum e assieme hanno co-creato Ethereum, quindi hanno lavorato al progetto Ethereum. Poi a un certo punto assieme a Jeremy Wood si è lanciato in una nuova avventura, appunto Cardano, una criptovaluta di terza generazione che è iniziato come una versione di Ethereum per il mercato giapponese. Poi da lì si è espansa diventando qualcosa di molto ma molto più importante, più grande, esattamente come lo vediamo. Vediamo come è strutturata Cardano, tra l'altro qui sotto ti indico tutti i link dei vari siti, il sito principale è questo, cardano.org, dove si parla del progetto, viene descritto tutto quanto, come funziona, quali sono le sue caratteristiche e da qui possiamo accedere ad esempio alla roadmap e a tutti gli altri punti fondamentali del progetto. Ma vediamo la roadmap e attraverso la roadmap continuiamo a capire ancora di più che cos'è Cardano e come funziona. Cardano appunto l'abbiamo detto, una rivoluzionaria rete blockchain proof of stake in fase di sviluppo in una piattaforma di sviluppo di applicazioni decentralizzate, DAP, con un registro multi asset e contratti intelligenti verificabili, smart contract. Costruito con il rigore dei metodi di sviluppo formale ad alta garanzia, Cardano mira a raggiungere la scalabilità, l'interoperabilità e la sostenibilità necessarie per le applicazioni del mondo reale. Cardano è un progetto per essere la piattaforma di scelta per le DAP con una missione critica su larga scala, quindi che diventi estremamente sicura e affidabile, quindi è la risoluzione del trilemma che abbiamo visto prima, quindi andando a sostenere l'economia del futuro. Sulla base di ricerche accademiche per VUVD questa è la grande forza, la grande differenza di Cardano e da qui capiamo anche perché ha messo tanto tempo per arrivare fino a qua oggi. Negli ultimi anni può essere apparsa come un progetto che dormiva, quindi che non andava a rilasciare nuove upgrade, nuove funzionalità, ma tutto dovuto alle ricerche accademiche peer to peer, quindi prima di mettere in campo una modifica tutto è stato approvato, testato da un punto di vista matematico dai migliori scienziati e professori universitari del mondo. Tutte le ricerche e le specifiche tecniche che sono alla base di Cardano sono pubblicate tutte pubblicamente, tutta l'attività di sviluppo di Cardano è resa disponibile al pubblico. Cardano è un progetto da un team globale, e qui adesso capiamo com'è strutturata, di esperti leader in discipline che vanno dai sistemi distribuiti ai linguaggi di programmazione e alla teoria dei giochi ed è sviluppato congiuntamente da IOHK, cioè la società di Charles Hoskinson che l'ha creata e l'ha fondata e dai suoi partner. IOHK sviluppa la tecnologia, la fondazione Cardano, quindi altro elemento fondamentale, è responsabile della supervisione e dello sviluppo e della promozione di Cardano, mentre EMURGO guida l'adozione commerciale, quindi si è creata una struttura e ogni parte si occupa di qualcosa di specifico. Mentre costruiamo Cardano siamo solo custodi, inizialmente non era un progetto totalmente decentralizzato, lo sta diventando sempre di più fino ad arrivare appunto quando la rete sarà completamente decentralizzata, parterà la comunità e sarà la comunità a decidere il suo futuro attraverso le funzionalità di governance avanzate. Vediamo qual è la roadmap di Cardano che è estremamente fondamentale e da qui ci fa capire anche il valore futuro e le prospettive future. La roadmap di Cardano è una sintesi dello sviluppo di Cardano che è stata organizzata in cinque epoche, a non suddivisione epoche, Byron, Shelley, Gauguin. Al momento ci troviamo all'interno di Shelley. Gauguin non hanno ancora annunciato effettivamente quando ci sarà, ma parlano che a brevissimo si arrivi a Gauguin e vediamo dopo assieme le varie epoche che caratteristiche hanno. Basho e Voltaire. Ogni era è incentrata su una serie di funzionalità che verranno fornite in più versioni di codice. Mentre le epoche di Cardano verranno consegnate in sequenza, il lavoro per ogni era avviene in parallelo con ricerca, prototipazione e sviluppo spesso in corso di tutti contemporaneamente attraverso diversi flussi di sviluppo. Il lavoro di ogni epoche è raccolto e presentato nella sua pagina dedicata, rappresentando anni di impegno. Qui troverà una panoramica degli obiettivi dell'era nonché le descrizioni dei componenti funzionali principali, i collegamenti alla ricerca accademica associata, gli aggiornamenti di stato e persino i commit del codice in tempo reale. C'è veramente davvero tutto. Tutti questi link li metto qua sotto perché ti invito a approfondire la ricerca. Qui in pochi minuti non possiamo vedere davvero tutto. C'è da parlare per ore di Cardano. D'altronde ha impiegato tantissimi anni ad essere creata. Quindi abbiamo visto come è stata, come è strutturata. Vediamo la roadmap qua che viene rappresentata così. Ti leggo alcune caratteristiche della roadmap. Allora, nella roadmap di Cardano abbiamo avuto la fase 1, Byron, che è la fase iniziale di implementazione che ci ha portato la blockchain Cardano a settembre del 2017. Il team ha trascorso due anni per trovare e progettare i migliori protocolli blockchain per la scalabilità, interoperabilità e longevità. Poi siamo arrivati alla fase 2, Scilli, alla fine di luglio dell'anno scorso. Abbiamo assistito alla seconda fase di sviluppo quando la blockchain si è fortemente biforcata nell'aggiornamento di Scilli, introducendo la capacità di staking dei token ADA. È stato un primo mese di successo con poco più di 13.6 miliardi di token ADA puntati da oltre 40.000 indirizzi univoci. Questa è circa la metà dell'offerta circolante al momento della scrittura. Questo è stato il passo primo e fondamentale verso la decentralizzazione. I premi per lo staking del primo mese hanno superato di gran lunga le aspettative degli utenti, pagando circa un milione di dollari di ADA verso la fine di agosto. Fase 3, la attesissima fase 3 a cui stiamo per andare incontro, che è Gauguin. Ottobre dell'anno scorso Cardano ha definito la roadmap per la terza parte dello sviluppo della piattaforma. L'aggiornamento di Scilli ha richiesto 5 anni per l'implementazione, mentre l'aggiornamento di Gauguin dovrebbe essere pronto in pochi mesi. Ecco perché è atteso veramente tra settimane barra mesi. Dovrebbe essere pronto appunto in pochi mesi. Questo aggiornamento porterà contratti intelligenti, quindi gli smart contract e applicazione decentralizzata sulla piattaforma. Cardano, che prende il nome dallo scienziato informatico Joseph Gauguin, utilizza il linguaggio di programmazione Plutus, consentendo la scrittura di comandi sia in catena che fuori catena, quindi sia in chain che fuori chain nella stessa lingua. La fase 4 basso riguarda la scalabilità, riguarderà la scalabilità e l'interoperabilità. Dopo il focus sulla decentralizzazione nel team Cardano lancerà un aggiornamento che aumenterà la produttività, introducendo side chains e stili di contabilità paralleli. Poi ci sarà la fase finale Voltaire, dove verrà garantita la governance e l'autosostenibilità della piattaforma. A questo punto gli utenti che detengono ADA potranno utilizzare la loro partecipazione come diritti di voto sui futuri sviluppi del protocollo. Allora, parlando di Cardano, è doveroso fare un accenno all'algoritmo. L'algoritmo è chiamato Ouroboros, è l'innovativo meccanismo di consenso di Cardano che utilizza l'algoritmo Proof of Stake. È impostato per essere il protocollo blockchain più sostenibile dal punto di vista ambientale. Il meccanismo di consenso sceglie essenzialmente chi deve aggiungere al blocco successivo della catena, principalmente in base alla quantità di stake delegata in un dato pool di stake, dopo aver ricevuto i premi per la partecipazione. In termini semplici più stake è delegato a un pool di staking, fino a un certo punto maggiori sono le probabilità di fare il blocco successivo. La ricompensa per i blocchi aggiunti viene condivisa tra tutti gli utenti che avevano delegato la puntata in quella riserva di puntate. Il portafoglio, il wallet si chiama Daedalus, come vediamo qua. Una cosa ancora interessante sul meccanismo di consenso è che ha sempre incoraggiato a essere più decentralizzato possibile in questo Proof of Stake, incentivando gli stakers e quindi premiando i pool più piccoli con premi e commissioni di staking più alti, in modo da avere sicurezza e decentralizzazione. Gli incentivi sono attentamente e scientificamente progettati per mantenere la longevità e sostenibilità del Cardano Network. Gli incentivi sono stati creati utilizzando matematica, economia e teoria dei giochi. Un accenno doveroso va anche alla community Cardano che oltre a essere la terza moneta per importanza e capitalizzazione è indubbiamente una delle community più affollate, più ricche e con più seguito. La puoi andare a vedere su Reddit dove ci sono tantissime informazioni, quindi sia per chi è appena arrivato che vuole approfondire questo progetto che per chi lo segue da tempo. Difatti vediamo nella community Cardano 162.000 Cardanians a livello globale e non è l'unica, su Reddit ce ne sono anche altre. Vediamo velocemente alcuni dati come la capitalizzazione l'abbiamo visto prima, il volume di scambio. Graficamente il massimo storico che è stato, lo vediamo qui, è stato il 4 gennaio del 2018 a 1.18, il minimo storico marzo del 2013, scusami, 13 marzo del 2020 e da qui puoi vedere bene cos'è accaduto già solo nell'ultimo mese. Graficamente, anzi prima di passare la parte grafica e concludere, questi sono gli exchange dove è possibile acquistare o appunto scambiare Cardano, vanno da e Toro, che tra l'altro chiede ad essere sponsorizzato, Crypto.com, che noi personalmente utilizziamo e questi altri che vedi qua sotto. Ovviamente è un'informazione che puoi vedere tranquillamente su CoinGecko o CoinMarketCap, oltre ad avere altre informazioni su Cardano. Concludiamo andando a vedere graficamente cos'è accaduto, già l'abbiamo un pochettino visto dal grafico su CoinGecko. Massimo storico, l'abbiamo detto, gennaio del 2018, minimo storico marzo del 2020, qui abbiamo il grafico settimanale. Quali sono le prospettive o le previsioni in termini di prezzo? Allora, indubbiamente a breve, ovvio no financial advice, ma indubbiamente a breve vedo un Cardano tornare al dollaro, almeno al dollaro, e ci sta arrivando. Quindi cosa va a fare? Tecnicamente una cap, quindi una coppa, e va a richiudere col massimo storico. È quello che è accaduto e sta accadendo a tantissime altre criptovalute in questi ultimi giorni, ultime settimane. È accaduto esattamente la stessa cosa anche a Bitcoin, dove, ricordiamolo, dopo aver raggiunto e superato il massimo storico, in solo un mese ha raddoppiato di valore. Quindi ci possiamo aspettare questo da Cardano? Potenzialmente sì. Allora, adesso c'è molta hype, molto interesse, perché ci stiamo avvicinando effettivamente al release dell'epoca successiva, quindi di questo upgrade che è appunto Gauguin. Come sempre c'è tanto interesse, prima, nel momento in cui verrà rilasciato, innanzitutto bisognerà vedere la validità e l'affidabilità di questa release. Ripeto, caratteristica di Cardano è stratestare tutto prima di entrare nella pratica. E guarda caso, sembra che questa cosa premi e abbia funzionato, perché non ha dato assolutamente problemi dopo le ultime release. Quindi ci aspettiamo che l'inserimento degli smart contract sia qualcosa che inneschi un prospettive eccezionali, sia da un punto di vista di partnership, di collaborazioni, che anche in termini di prezzo. Un piccolo, tra virgolette, previsione che possiamo fare è semplicemente andare a proiettare quelli che sono i ritracciamenti Fibonacci e le relative estensioni e vedere cosa, secondo i ritracciamenti Fibonacci, può andare a incontrare il prezzo. Le estensioni più importanti sono indubbiamente 1.6 e 3.2.6, 3.6, dove vediamo 2,2 dollari, 3,59 dollari e 4,96, quindi quasi 5 dollari. Questo cosa vuol dire? Il prezzo può arrivare a questi livelli? Può arrivarci come assolutamente no, è semplicemente una sorta di giocare sulle prospettive future. Indubbiamente, qualora gli smart contract tutto funzioni, vanno avanti anche in tempi brevi, come di recente sta avvenendo per quello che riguarda Cardano. Il tetto per il valore di questa criptovaluta davvero può essere il cielo, quindi progetto super interessante. Ti invito, quello che è il mio invito è semplicemente ad approfondire. Io la seguo davvero dal 2017. Mi appassiona molto, ci credo. Non è detto che quello di cui abbiamo parlato si realizzi, sarà interessante proprio andare a vedere in corso d'opera tutte queste cose. Quindi un caro saluto finale da parte mia, Alberto di CryptoLearners, ti ringrazio e complimenti per essere arrivato fino a qua nel video e per esserti interessato a tutto questo. Schiacciaci un like, iscriviti se non l'hai già fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!